Oggi abbiamo condiviso le prime proposte da fare al nuovo governo sulla legge di stabilità. Sono proposte importanti che riguardano finanziamenti per i comuni, per i loro bilanci. Nello stesso tempo abbiamo fatto il punto sul bando delle periferie. Vorrei che su questo i cittadini sapessero bene che si tratta di milioni che sono già stati approvati dal precedente governo, sono stati segnalati accordi con tutti i sindaci firmati perché i soldi per riqualificare le periferie siano adatti ai comuni. C'è stato un impegno preso in prima persona dal Presidente del Consiglio Conte con la nostra delegazione Anci, su richiesta del Presidente De Caro, dell'Anci, dove il primo ministro ha detto che si impegna a restituire questi soldi ai comuni. Noi astendiamo quindi che ci sia in un decreto un testo che corregge questo provvedimento e ridia i fondi ai comuni. Se questo non avverrà sarà un fatto gravissimo, la nostra opposizione sarà durissima, diserteremo le conferenze Stato-Regioni e avvieremo un ricorso generalizzato. Non si può scaricare sui comuni problemi dello Stato nazionale. I comuni hanno già dato 11 miliardi ai governi precedenti per risanare il debito dello Stato, quindi non è possibile continuare in questo modo. Negli ultimi tre anni non ci sono stati tagli ai comuni, questo è molto importante perché se vogliamo far ripartire il Paese non può che ripartire dalle città e dai comuni.